Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie di tutorial Siamo quasi a fine luglio, quindi agosto è il periodo migliore per approfondire determinate conoscenze o approcciarsi a nuove conoscenze In questa nuova serie di tutorial andremo a vedere una libreria che va molto di moda ultimamente che è il diretto concorrente di Bootstrap per quanto riguarda il CSS ed è la libreria Materialize che si basa su Google Material Design è una libreria ovviamente per il mobile, quindi anche responsiva, quindi come Bootstrap però secondo me ha qualcosina in più quindi è ancora agli esordi questa libreria, quindi non è ancora completa ha anche qualche difettuccio che vedremo, molto probabilmente però secondo me se sviluppata come si deve potrebbe soppiantare Bootstrap senza grosse difficoltà andremo a creare un template, restaurant project, quindi il template di un ristorante da 0 a 100 vi mostro subito il file di base il file di base è questo qui, quindi prendetevi il tempo necessario per scrivere tutto e così poi partiamo vi dico brevemente di che cosa si tratta qui abbiamo il font che useremo, che sarà il lato lo prendiamo semplicemente da font.googleapis e quindi se volete usare ovviamente un altro font basta che cambiate poi questo è il file CSS di Materialize ovviamente è la versione min perché pesa di meno poi questo è il nostro custom CSS quindi il CSS che andremo ad aggiungere e sarà pochissimo e queste qui invece sono le Material Icons perché supporta molto bene le Material Icons ovviamente Materialize perché sono proprio le icone che dovrebbero essere usate e a tal proposito vi faccio vedere il sito con tutte le icone che sono molto carine e ne andremo a usare molte e che sono tutte queste qui e sono le icone che usa Google in sostanza e quindi questo è per quanto riguarda la parte del CSS per quanto riguarda il JavaScript abbiamo bisogno di jQuery ok? la versione 2.1.1 poi abbiamo bisogno del file JS di Materialize questo è tutto il CDN quindi lo trovate basta che cercate Materialize CDN oppure vi copiate i link mettendo in pausa questo video e poi abbiamo bisogno di Masonry che è un file JavaScript trovate a questo link che ci servirà per creare una gallery con degli oggetti che hanno altezze diverse mi spiegherò meglio quando lo andremo a creare infine abbiamo il link al nostro JS quindi al nostro file JavaScript che andremo a scrivere ovviamente per il momento style.css e restaurant.js sono vuoti io ho strutturato così il mio progetto a cartella CSS cartella IMG per le immagini cartella JS nella cartella delle immagini ho scaricato determinate immagini che andrò ad utilizzare per l'header per il parallax e per il menu quindi abbiamo due immagini di header avremo uno slider quindi che scorrerà dalla prima alla seconda e viceversa poi avremo due immagini in parallasse per chi non sa che cos'è lo vedremo fra qualche tutorial che sono queste due e poi per il menu essendo un ristorante abbiamo questi quattro prodotti le foto le ho scaricate liberamente da unsplash.com che è un sito che offre immagini gratuite dove i credits non sono obbligatori sono ovviamente ben voluti ben visti però non è obbligatorio quindi basta che cercate qui ad esempio restaurant e vi escono tutte le immagini relative a dei ristoranti e scegliete quelle che volete oppure se sviluppate un template su qualcos'altro cercate qualcos'altro per questo tutorial è tutto nel tutorial successivo iniziamo a vedere il primo codice quello della barra di navigazione e dello slider noi ci vediamo al prossimo video